Qui a Canosa avete un bellissimo teatro e io sono un bellissimo teatro. Non faccio lui, e di solito io sono un po' polemico, che mi propone un po' più stanco. Ci sono grandi città tra noi e la pazza, ma grandi città, belle città, non hanno un teatro, non hanno un cinema, e poi, facciamo le considerazioni, ed è una cosa un po', non è bella per quanto ci riguarda, ma le città, le città che si devono chiamare città, sono città che hanno teatri, che hanno belle chiese, questa cattedrale, io ho dato tanti concerti simpolici, questa bellissima cattedrale dove si scendono i gradini, vero? È un nuovo po' a scelta, abbiamo andato con l'orchestra simponica di vari, molti anni fa, sono stato direttore stabile e artistico e portavo spesso, ogni anno, l'orchestra simponica. non so, ma, qui anche un po' tra poco, ho portato anche il FAI, il Fondo Ambiente Italiano, l'abbiamo visitato, il vostro museo, è un paio, se non è l'uomo, è proprio in piazza, bellissimo, ha conosciuto la famiglia, ha conosciuto, quindi, una bella città, la si vede anche dai musei, dai teatri, secondo me, secondo gli altri, non lo so. Complimenti a voi e approfittate di questo nuovo organismo. Grazie.